Siamo in compagnia di tre neocampionesse del CSI di Valcamonica per la categoria Juniors per l'anno sportivo 2010-2011. Vi chiamate? Cristina, Chiara, Elena. Buonasera, ciao. Hanno giocato ieri la loro finale giù nella palestra del Palaiseo contro il Grattacasolo. Il risultato è stato? Abbiamo vinto 3-0. Proprio una vittoria schiacciante? Sì. No, loro sono state brave, cioè ci erano fatte a sudare, però noi abbiamo vinto lo stesso. E quali sono le vostre impressioni, le prime impressioni così adesso che siete tra virgolette campionesse che ho vinto? Però avete vinto quasi sempre, mi sembra. Sempre. Abbiamo vinto tutte. Sarebbe stato avvilento arrivare alla finale e perdere proprio quella dopo averle vinte tutte. E tu non hai niente da dire? Modestamente, siamo vincitrici, basta. Non c'è niente da dire. Abbiamo rintracciato anche l'allenatore della Sial Cividate, Gian Mario. Ciao, buonasera. Tu invece cosa sei felice ovviamente di questo gruppo di ragazze? Sicuramente è stracontento, al di là del risultato sportivo, ciò che mi soddisfa di più è sicuramente l'unione della squadra. Un bel gruppo affiattato dal primo all'ultimo allenamento, dall'inizio alla fine della stagione. Adesso vi aspetta la prima fase dei regionali, sperando di vincere? Sicuramente. È comunque un'esperienza, l'abbiamo già fatta anche l'anno scorso. Non sappiamo ancora quali sono le squadre che andremo ad incontrare. affrontaremo sicuramente con il massimo impegno e poi vada come vada.